Oggi ci immergeremo nella storia di una delle famiglie più potenti e affascinanti della storia. Una famiglia la cui influenza ha attraversato continenti e secoli, ma che è rimasta avvolta nel mistero e nella speculazione. Il loro nome è diventato sinonimo di potere, ricchezza e del mondo dell'alta finanza. Stiamo parlando dei Rothschild. Dai loro inizi modesti in un ghetto di francoforte fino a diventare gli architetti del sistema bancario moderno, il loro viaggio è pieno di successi e controversie. Nei prossimi minuti scopriremo come questa famiglia ha costruito un impero che ha plasmato nazioni, influenzato guerre e lasciato un'eredità duratura nella finanza globale. Che li abbiate sentiti nominare dai libri di storia o dalle numerose teorie del complotto che li circondano, la storia dei Rothschild è fatta di ambizione, intelligenza e successo ineguagliabile. La dinastia Rothschild ha origini umili. Tutto iniziò con Meyer Amschel Rothschild, nato nel 1744 a Francoforte in Germania. La sua famiglia viveva nel ghetto ebraico, una zona ristretta e spesso povera dove gli ebrei erano confinati a causa delle politiche antisemite. Il padre di Meyer era un cambiavalute e un commerciante di tessuti che a malapena riusciva a sbarcare il lunario. Ma Meyer possedeva qualcosa oltre alle difficoltà economiche, aveva un talento per la finanza e una mente incredibilmente acuta per gli affari. Da giovane Meyer fu invitato ad Hannover per fare pratica presso una banca dove imparò le basi del sistema bancario, del cambio valuta e del commercio con i clienti facoltosi. Questa esperienza si rivelò inestimabile. Quando tornò a Francoforte, Meyer aprì la sua attività, inizialmente trattando monete e valute, ma presto espandendosi nel settore bancario. La sua grande occasione arrivò quando riuscì a stabilire un rapporto con il principe Guglielmo D'Assia, uno dei principi più ricchi d'Europa all'epoca. Guglielmo si fidava di Meyer per gestire e far crescere la sua fortuna, e questo segnò l'inizio dell'ascesa dei Rothschild nella finanza europea. Meyer Amschel Rothschild aveva cinque figli e immaginava un impero bancario che si estendesse oltre i confidi della Germania. La sua visione non era solo di un'azienda familiare di successo, ma di una rete di operazioni finanziarie che attraversasse l'Europa. Mandò i suoi figli nelle principali capitali finanziarie. Amschel rimase a Francoforte per gestire l'operazione principale. Salomon andò a Vienna, Nathan a Londra, Kalman a Napoli e James a Parigi. Ognuno dei figli divenne il capo di una banca Rothschild in queste città strategiche, formando una rete finanziaria internazionale senza precedenti. I Rothschild furono pionieri in diversi settori bancari. Una delle loro innovazioni fu la capacità di trasferire denaro oltre i confini in modo rapido e sicuro, attraverso un sistema di lettere codificate e corrieri molto prima che esistessero i telegrafi e le comunicazioni elettroniche. Questo permise loro di facilitare il commercio internazionale e le operazioni governative in tutta Europa. Forse il più famoso dei fratelli Rothschild fu Nathan, che stabilì la filiale di Londra. Il suo acume finanziario era insuperabile e giocò un ruolo fondamentale nel finanziare lo sforzo bellico britannico durante le guerre napoleoniche. Dopo la battaglia di Waterloo nel 1815, Nathan sfruttò in modo leggendario informazioni precoci sull'esito per ottenere enormi profitti. La storia racconta che manipolò il mercato azionario vendendo titoli di Stato, facendo credere agli altri che la Gran Bretagna avesse perso la battaglia, solo per riacquistarle a un prezzo inferiore una volta rivelata la verità. Questo evento consolidò la reputazione della famiglia Rothschild come maestri della finanza. A metà del XIX secolo i Rothschild non erano solo banchieri, ma i colossi finanziari dietro alcuni degli eventi più importanti della storia europea. La loro influenza andava ben oltre il semplice prestito di denaro. Erano parte integrante delle decisioni politiche ed economiche delle grandi potenze. I Rothschild divennero noti come i banchieri dei re, finanziando monarchie e governi nei momenti di bisogno. Fornirono prestiti a Gran Bretagna, Francia, Austria e altre potenze europee, consentendo a queste nazioni di finanziare guerre, opere pubbliche e la crescita industriale. Un esempio chiave della loro influenza fu il finanziamento di progetti infrastrutturali in tutta Europa. I Rothschild finanziarono le ferrovie che collegavano i paesi, rivoluzionando il commercio e i trasporti. Infatti, le banche Rothschild giocarono un ruolo cruciale nella costruzione delle prime reti ferroviarie europee, contribuendo a plasmare la rivoluzione industriale. Questo conferì loro ancora più potere sul flusso di merci e sulle economie delle nazioni europee, ma con grande potere vennero anche grandi sospetti. Con l'aumentare della loro ricchezza e influenza aumentò anche la diffidenza. I Rothschild venivano spesso accusati di manipolare mercati e governi a proprio vantaggio. Erano visti come detentori di troppo potere dietro le quinte, controllando i tassi di interesse e determinando l'esito dei conflitti politici. Alcune di queste accuse diedero vita alle numerose teorie del complotto che ancora oggi circondano la famiglia. Un esempio famoso è la teoria secondo cui i Rothschild avrebbero orchestrato guerre per trarre profitto dai debiti delle nazioni. Sebbene gran parte di queste teorie siano esagerate o false, esse testimoniano l'immenso potere che detenevano, un potere che pochissime famiglie nella storia hanno mai raggiunto. Con l'inizio del XX secolo la famiglia Rothschild continuò a svolgere un ruolo centrale nella finanza globale, sebbene le loro operazioni divennero più discrete. Il mondo stava cambiando, le monarchie cadevano, emergevano nuove potenze finanziarie e conflitti globali come le guerre mondiali ridefinirono il panorama geopolitico. Tuttavia le banche Rothschild si adottarono e rimasero rilevanti. Durante la prima guerra mondiale i Rothschild finanziarono le potenze alleate e dopo la seconda guerra mondiale contribuirono a finanziare la ricostruzione dell'Europa attraverso varie iniziative, incluso il piano Marshall. Sebbene non fossero più le più grandi banche del mondo, la loro ricchezza e influenza era ancora vastissima. Nella seconda metà del XX secolo la famiglia si concentrò maggiormente sugli investimenti e sulla filantropia. Diversificarono le loro partecipazioni dalla finanza alle collezioni d'arte, ai vigneti e alle fondazioni caritatevoli. I Rothschild moderni continuano a gestire fondi patrimoniali privati e a detenere una notevole influenza sui mercati finanziari, pur mantenendo un profilo pubblico molto più basso rispetto al passato. L'immenso potere e la natura riservata della famiglia Rothschild li hanno sempre resi oggetti di intrighi e speculazioni. Dal XIX secolo ad oggi sono stati al centro di numerose teorie del complotto, molte delle quali completamente infondate, ma che persistono comunque. Alcune di queste teorie sostengono che i Rothschild controllino segretamente i governi del mondo, le banche centrali e persino gli eventi globali. Queste idee non hanno basi reali, ma dimostrano l'impatto e la fascinazione che la famiglia esercita tuttora. Oggi il nome Rothschild è ancora sinonimo di ricchezza e potere, anche se la loro influenza non è più così visibile come una volta. L'eredità dei Rothschild è una testimonianza della loro capacità di adattarsi e prosperare in un mondo in costante cambiamento. Dalle modeste origini nel ghetto di Francoforte fino a diventare uno degli imperi finanziari più longevi e potenti della storia, i Rothschild hanno lasciato un'impronta indelebile sul mondo. Ciò che forse è più affascinante dei Rothschild non è solo il loro potere finanziario, ma come abbiano saputo padroneggiare l'arte dell'influenza senza cercare la luce dei riflettori. Mentre altri magnati cercavano la fama, i Rothschild scelsero la discrezione, lasciando che la loro ricchezza parlasse silenziosamente nei corridoi del potere. Questo dominio del potere invisibile, la capacità di plasmare eventi ed economie da dietro le quinte, potrebbe essere la loro eredità più significativa. Ci fa chiedere, in un mondo dominato dalla visibilità e dall'esposizione, il vero potere potrebbe ancora appartenere a chi sceglie di restare nell'ombra? Per questo video è tutto, grazie per aver guardato e se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like, commentare qui sotto e iscrivervi al canale per numerosi altri contenuti sul mondo della finanza e delle storie di donne e uomini che hanno cambiato il mondo. Restate informati e noi ci vediamo al prossimo video.